La mia vita è la mia vita. Tanto noi non abbiamo segreti, no? Ora ti spiego. Ma che vuoi spiegare? Questo ha scritto c'ho voglia di scovare. Tante volte puoi essere il T9, eh? Che cazzo dici da te? Diretta a me, sei troppo innamorato di mamma per capire quanto è stronza. Le ho trovato un pacchetto di preservativi nella borsa. Oddio se capitasse a Rosa. Amore, Rosa compie sei anni a giugno. Io non lo so mica se sarei una brava mamma. Ma perché sei incinta? Oh, allora la vostra! Non c'è ancora niente da brindare. C'è il fatto che qualcuno scopa. Oh! Questi cosi ci stanno rovinando l'esistenza, ci stanno portando via il privato. Io sei un amante, non lo voglio sapere. Parla, parla, sono i tuoi migliori amici. Magari anche loro vogliono sapere, no? Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken. Tu tutte le fatte e io senza parole. Dammi quel telefono! Dammi quel cazzo di telefono! Gioca. Siamo amici da Pony, siamo ragazzini. Ma vuoi dire che sei? Pony, dici da quanto dura! Che cazzo? Nooo! 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 Steve Jobs! Ma non era morto. Invece se era vivo chiamava mia moglie. Qui cazzo! Nooo!